La borsa è una borsa molto comoda, molto casual, da poter portare veramente giorno e notte. Con un abbigliamento così semplice, veramente l'accessorio è diventato così importante che parla da sé. Quindi facciamo modelli molto facili da portare. Diciamo pelle di coccodrillo, che è il nostro basico, non è assolutamente proibito. Abbiamo un bellissimo riscontro, perché visto che questo accessorio diventa sempre molto più importante, quindi è l'accessorio che fa l'abbigliamento di una persona. Negli ultimi anni il nipple è diventato molto basico, nel senso che comunque c'è poco passaggio, è diventato una cosa molto di turisti. Tutti quanti si appoggiano a degli showroom, comunque tutti vendono il proprio prodotto in un modo molto privato. Sarebbe bello che comunque passere con il nipple, che è sempre stato uno dei più importanti, comunque diciamo nell'ambito italiano, venisse molto più spinto, proprio per riuscire a essere tutti quanti una bella famiglia. Visto che c'è così tanto prodotto sul mercato, questa ricerca specifica di un determinato prodotto aiuterebbe tutti quanti. Il momento in cui uno cerca esattamente questa cosa, so che questa azienda fa questa cosa, immediatamente, soprattutto per noi ci ruderebbe molto. L'azienda è nata facendo il cocodrillo matto, o dire appunto opaco, molto soffice. Quindi è stato sempre un ribaltamento della classica borsa in cocodrillo. Non abbiamo mai voluto, facendolo comunque, la borsa classica in cocodrillo, diciamo, tendenzialmente più rigido, ma abbiamo sempre spinto questa nostra idea di voler cambiare le carte intende. La nostra azienda vuole rimanere una azienda molto familiare, vogliamo rimanere tali e questo ci ha aiutato per far sì che comunque i nostri clienti, comunque la gente, capissi realmente l'amore che diamo nel fare il nostro prodotto e quindi nel credere il nostro prodotto.